Caccia all'uomo in Francia sulle tracce del presunto responsabile dell'ennesimo attentato messo a segno con un ordigno rudimentale imbottito di chiodi e bulloni e fatto esplodere nel pomeriggio di venerdì 24 maggio nel centro della città di Lione. 13 i feriti tra cui anche 8 donne e una bambina. La polizia ha diffuso questa foto del presunto responsabile strapolata dai filmati delle telecamere di sicurezza della zona. Si tratterebbe di un uomo sulla trentina con maglietta scura e bermuda chiari in sella a una bicicletta che avrebbe lasciato il pacobomba in rio Victor Hugo. L'esplosione è avvenuta intorno alle 17 e 40 di fronte a un panificio. Il pacobomba era stato costruito senza dubbio per fare del male come ha denunciato Denis Brolicquere, il sindaco del secondo arrondissement di Lione. Le ferite sono state causate soprattutto da scheggi di vetro delle vetrine che sono esplose, ha detto. Poi ci sono anche pezzi di metallo che per fortuna hanno causato solo danni superficiali. Si indaga per terrorismo. L'inchiesta infatti è stata assegnata alla sezione antiterrorismo della procura di Parigi anche se per il ministro della giustizia Nicole Balloubet è ancora presto per parlare di un atto terroristico. Il presidente Emmanuel Macron ha rivolto un pensiero ai feriti e alle loro famiglie mentre il ministro degli interni Christophe Castaner ha invitato i aspetti a migliorare la sicurezza dei luoghi pubblici.